Ciao a tutti, è il 23 dicembre e siamo qui a Roma in Parlamento, nel nostro gruppo parlamentare di Noi con l'Italia, in attesa di votare la fiducia al Governo e poi di approvare definitivamente la legge di bilancio. Ovviamente voteremo contro, ma non voglio parlarvi di questo. Questa settimana voglio semplicemente approfittare per farvi gli auguri, gli auguri di Buon Natale. E lo faccio insieme e mostrandovi un segno, quello che Papa Francesco nella sua lettera apostolica sul presepe ha detto, suscita sempre stupore e meraviglia quando lo si fa, quando i bambini sono contenti e insieme con te fanno il presepe, quando lo poni come gesto e come segno in un'aula del Parlamento o in un gruppo parlamentare. Questo è il nostro presepe ormai che da anni facciamo qui nel nostro gruppo parlamentare, qui nella sede del Parlamento. Tra l'altro è un bellissimo presepe napoletano che mi regalarono quando ero ministro delle infrastrutture e dei trasporti. E perché auguri di Buon Natale? Perché farlo davanti a un presepe? Perché il Natale è, come dice Papa Francesco sempre in questa meravigliosa lettera apostolica, Dio che ci ha voluto talmente bene, che ha voluto condividere talmente con noi tutto che per non lasciarci soli che è venuto a trovarci, che si è fatto uomo. Addirittura oggi c'è un bellissimo pezzo sul Corriere della Sera di Davenia, vi invito a leggerlo, perché concludendo il suo articolo e parlando di Dostoievski, racconta di un messaggio che Dostoievski ha scritto a un suo amico che era titubante se assistere o no una donna accusata di infanticidio. Pensate, l'infanticidio, uno dei peggiori delitti che un uomo o una mamma può compiere. Ecco, Dostoievski gli scrive, mi raccomando, non fatevi sfuggire il momento in cui il Signore fa la sua mossa. Ecco, Buon Natale è questo ed è la ragione per cui durante tutto l'anno ci siamo tenuti in contatto, per cui abbiamo fatto discussioni, è la ragione per cui ognuno di noi si muove, cioè c'è qualcuno che ci ha voluto talmente bene che è venuto, il Natale è questo ricordo. Così come io voglio talmente bene ed è questa la sorpresa che voglio farvi, mi hanno legato a questo filo che sembro un cavallo che gli hanno messo le redini al collo, dei due amici che per tutto l'anno erano dietro le quinte e che poi invece lavorano con noi e ci permettono sui social di restare in contatto con voi. Prendetevela con loro e comunque auguri di Buon Natale, anche a Valerio ed Andrea, guardate che faccia! Oh! Perché lui che mi sa gli appunti! E auguri!